Noi siamo il direttivo del CRAL della ASR Vasto Gissi, siamo circa 400 soci. A maggio abbiamo organizzato un corso gratuito di autodifesa per tutti i soci di questo CRAL con il maestro Vitale Stanisci. Il maestro praticamente non ha voluto il suo compenso ma ci ha chiesto che il suo corrispettivo del compenso veniva devoluto in beneficenza. Pertanto abbiamo pensato oggi di acquistare una carrozzina per il pronto soccorso e oggi stesso consegneremo con parte del direttivo questa carrozzina al pronto soccorso. Sono Stanisci Vitale, maestro di Vinciung che pratico all'incirca dal 1996. Sono stato invitato da Roberto Colanzi e l'associazione CRAL a fare un corso di autodifesa reale per gli infermieri dell'ASR Vasto. È stata una bella esperienza dove ho cercato di far capire agli infermieri, ma in questo contesto diventano sempre allievi del maestro, quindi ai miei allievi, di imparare a conoscere il proprio corpo perché quello che insegniamo non è un insieme di tecniche ma è un modo intelligente di muovere il corpo perché la prima cosa che conviene fare è conoscere se stessi, imparare a conoscere le proprie capacità e quindi facendo uno studio su se stessi e non sull'aggressore e sull'avversario.